Green Pass per la ripresa del turismo, accolto positivamente dalla sezione di Confindustria Venezia che anche commestre registra più di un centinaio di associati, con le prenotazioni in netta ripresa nelle località balneari e soprattutto nei resort, dove si registrano performance superiori alle aspettative. Uno strumento che permetterà la ripresa del turismo e soprattutto di quei grandi eventi, congressi, fiere perché ricordiamoci che questi eventi sono poi i più colpiti e dando un giusto protocollo di sicurezza si potrà anche partire in maniera graduale a questo tipo di segmento di settore. Con l'evoluzione della normativa sul Green Pass, difficile fare previsioni per settembre, mese sul quale a Venezia si era puntato per la ripartenza con le vaccinazioni contro il Covid in ripresa. Al momento, rispetto al 2019, con l'Australia in lockdown e i voli fermi per Taiwan, in centro storico si registrano perdite che vanno dal 50 al 70%, peggia a Mestre nell'area dei nuovi ostelli. Ci aspettiamo tantissimo mercato di prossimità, in particolare dalla Francia, Svizzera, Germania, Austria e dalla stessa Italia. Poi ricordiamoci che a Venezia ci sono degli eventi importanti, come la mostra del cinema, il premio Campiello, tanti eventi che comunque attirano sempre di più la nostra destinazione. Per la ripresa tra le iniziative del comparto, anche l'accordo con la Fondazione Veneto Film Commission per favorire l'incontro tra la domanda di produzioni cinematografiche e televisive e l'offerta di aziende attive nel territorio. Grazie.